battle royale evitate il gas andate alla zona sicura mi piace sto super ho appena visto un video di barry che dice che praticamente la quinta volta che una tipa gli scrive non puoi ripeter tutto c'è un po' per l'ho alien baby non ripeto alien baby non ripeto alien baby non ripeto alien baby non ripeto ma poi figa queste sono le classiche frasi dell'uomo e uno è andato gli altri mochi penso con calma perchè non ho più vita ma te l'ho finito danni di tutti senza mancana chi chi ne ha due chi è il più scarso qua chi è il più scarso adesso non lo so guarda cazzo l'arma c'è quello che ti ha fatto te lo giuro l'ho guardato è morto eh lo so dio bono forse non gli ho nemmeno sparato sai è venuto nel mio moto lello porca madonna ma vai a cagare ma vai a cagare ti adoro ma vai a cagare ti adoro ma che cagare lo sai Dio porco volete la cazzo di municione cosa volete no 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 mando l'uovo che cazzo faccio mando l'uovo vado cazzo piglio aspetta dobbiamo stare l'ello ah è vero ah lui ti mette a coda che c'è un muore no ma l'ello infatti l'ello torna a fare ma tanto se arrivano i pugni ho perso le altre anni i personaggio e i pugni ho perso movimento anche balestro ho perso ah l'ello entrerà attenzione questo qua lo shop aspettare l'ello cosa mi dice l'ello hai visto? eh frate l'ho detto prendi uov mando vado 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 lo hanno bisogno facciamo qualche corazza dietro vado corazza qui vado 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 uomo vero attenzione uovine attenzione attenzione questo continuo a scappare io non lo doverò mai Io sono nel periodo che avere un alien in squadra è sempre comodo ragazzi Sono restati qua da qualche palazzo C'è stato qualcuno di voi che ha pushato pesante e lo ha fatto scappare Forse Saiko Io sono pesante sicuro Saiko Io c'ho l'Uav eh ditemi quando Le Uav si stanno facendo Ma dove lo stanno facendo però Qua davanti a Burger Se lo fanno a Burger Sì c'è l'elicottero che è con loro Si chiama l'Uav barba Ti aiuti Saiko che ce l'ha davanti probabilmente Qui già 4-0 Scara 2 Quasi è craccato pure l'elicottero Ma uno dov'è in volo? Non mi hai messo Eh uno no è uno è l'elicottero Ah che bello L'altro invece di qua Ma me ne segnavo uno qua cazzo No è in volo è in volo No si è buttato giù? No perchè non ho parole Non ho parole che si è scappato da me Ah guardami da voi E chi c'era pronto? Barbaio Dio Dove minchia è? Che ne so zio quelli sparano Ma non so se Le nuvole è un pingato di Ocane Ma puoi pingare le nuvole Guarda Chi è l'arancione? Ah è lui che ha pingato la nuvole Già i miei problemi O lui pinga le nuvole Comunque si dice che lo sia morto apposta per andare nel gulag Per ucciderne uno senza farselo scammare La leggenda narra questa Lo sai che ti spara addosso Che mi facessi qualcosa di danno Gli chiudo tutte le porte che voglio Capito? No mare Che erano le persone Cioè stiamo andando in quattro Da uno che sta cercando di prendere una bandierina Tanto ve lo stiamo io raga Tranquillo Il ladro di Verdasco uno solo Barba dei sapere che abbiamo rinominato Alien il ladro di Verdasco Lupin figa Lupin baby Lupin baby Adesso si mette fuori dalla casa quello scappa e si trova Alien fuori che lo aspetta Chiama Brain Infatti sai che ti dico adesso Alien Brain Se io f*** tutti Lascio così Io lo voglio Attenzione Se invece mi succhiate le palle dio cane Tutti Arroa E a Mario verranno gli amichetti che stanno qua sopra Anche se io sono talmente pazzo Dai salite che vi copro prima che esce qualcuno qua Ho lasciato i soldi per sicurezza Se ti potete restare Lascio il 100 Così comprate le caramelle No sta sotto Sopra sopra MIGO 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 Terra No Oh no non senti qua Non ti buttare Non ti buttare Trovo Un lancio d'equipaggiamento Potete salire raga Il posizionamento Mi ammazza per stermi Mi ammazza per stermi Mi ammazza per stermi Ultimi Oh cazzo Guarda si mi ha fatto Ma potete salire cosa raga Ma sei simu E' stato il salto marcatto Il salto marcatto Il salto Il salto Il salto Il salto Il salto No 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 Non ci senti Sì Sì Però uno Uno è là dietro eh Movimento Uno è dietro quel container di merda Movimento Entra 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 Ah sì Se l'avete fatto Bravi Ma che cos'è Lello? La scoteca Lello Mi sei buttato Mi sei buttato Lello Non lo so Non lo so Non l'ho visto Sì mi sei buttato Trastami Eh tra Ti trasso Noo Sono cascato Noo Questo è umaro Nella torna del lupo Non lo trovo Non lo trovo Eh c'è fantasma C'è fantasma il tipo Il negro rozzo Dio cane dove sei Porco dio Vabbè raga Puttana madonna Non si è trovato Per me Per me ha le ali questo Per me Per me è un figlio di droio Oh Audio Prova se mi dispari Ha restato Ma dove? Rotto rotto Ah è sotto Arrivo 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 Andato nelle capanne Non so quale Flyer sopra 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 Quattro uno Da me sopra Se potete salire Sono su io Dove? Adesso Avvio Scanzione radar No son caduto Dio porco dove sono loro Scanzionamento Avete evitato l'insegnamento Ottimo lavoro UAPI nemico in volo UAPI Merda ce n'ho qua uno Ah no in volo, in volo, in volo A 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 Terra a 1 Oh no Oddio a terra sul camion Bravissimo zio, bravissimo Che cecchinata gli ho tirato Lasero a una, la burger Lasero a una Ti amo barba Mamma barba Rotto Rotto a burger ma cosa gli ho fatto a questo bello bello questo era pure difficile ha preso la macchina ha preso la macchina video di put e va tranquilo ti ha salvato la campanella ti ha salvato andiamo al lancio ma che cazzo è qua dentro sono cagato addosso io mi ero già preparato con la macchina più pronta aspettare che si scendesse la merda occhio che al lancio è sceso uno ve lo state fightando al camion a parcheggio giusto è qua è sceso verso il lancio il rosso tetto rosso ecco lui infatti 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 è proprio lui c'è un altro qua che cazzo non ci vola con i veicoli vado con l'ello barba vai con skype ma devo arrivare mi anticipo sul percorso è sotto di me dove arrivo eccolo dove deve fare questo non è vero non è vero non è vero me l'hai ciulato questo grazie ma che c'era lo caccavo la caccavo la paia la paia la paia la paia da super occhio madonna dobbiamo andare da l'ora non è vero devi girare a destra via si sono incazzati ragazzi sono frustrati qui da destra loro si stanno muovendo a destra si da destra andiamo dico di andare a destra io intanto faccio un po' di tetto di super vieni 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 sali sali aspetta vai oh la madonna va pigliato io li aspetto direttamente insieme anzi che arrivi qui vado sul palazzone quello è impushabile aspetta che arrivo vai rotto colo sul testo scendi 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 di chi è kit c'è un altro sopra l'altro qua versaglio marcato mi puntano io ho tomp 2 plate forse versaglio marcato non è ancora qua movimento magari si resta sei safe ti copro io dove cazzo è che non lo vediamo eccolo vuol farlo uscire rotto rotto lello è rotto lello ok bravo 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 che squadrono dio porco io prendo un bomba io cazzo piglio raga mando nuovi al volo mando io eh vabbè volete volete cosa volete giro bravo prendi un altro uovo pure dopo tienilo io un giro vi lascio no 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 ho sbagliato sbagliato compone 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 c'era uno passato che l'ha già passato sinistra terra guarda io barba grazie c'è anche c'è un 300 si banca banca che cazzo è cagano grappoli questo non mi capisco va bene questo restano grande questo oh cazzo sono morto regalo palazzo visto qua movimento mi sto restando a terra dichiaro un bomb attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo passaglia no tutti bago ma guarda io sai che posso farlo dentro bro si è tirato se non è bene no è caduto regà a 3 in ha tirato lo tolto e 3 in lo tolto eh vabbè dopo bro dobbiamo avere regà dobbiamo grossare grazie grazie non ne ho bene fino a chi gli servono fino a 3 regà grossato a voi arriva il gas ecco l'ho sceso lì no sarà meglio oh vaffanculo vele dai ora in hit muori per sopra detto pure pure sopra detto che è entrato qualcuno qui io andatemi fuori per favore no ancora io sto salendo tra sopra io anticipo sopra regà così li rompiamo vieni 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 che li ho presi vieni che li ho trovati alien dove sta lì macchina camion qua ho tirato un bomba passiamo il saldiario ok ho tirato un bomba passiamo il saldiario ok ho tirato i due sul cavo andrì ho tirato una termite che è un piano al culo voglio chiamarsi oh sul tetto regà quasi però lo intendevo straccato uno terra uno bravo bomba ce l'avete aspettate aspettate non salite voi non fate il tempo batte giusto vieni barbacca sicuramente qui dobbiamo salire così sicuramente barbacca no no di qua di qua di qua buone che stanno bolega non so dove sti cazzi non mi ha a rischio gas in movimento nuova zona sicura individuata questo è il primo che mi ha tirato in bomba appartamento di precisione alleato in arrivo UAP alleato in formolo abbio scambio a terra bravo alien UAP nemico in volo guardi un attimo eh sarà quella conferma cazzo quant'anno l'ha già preso? no no ce l'ho rotto nell'angolo raga non c'ho nulla dio niente ci può pompiere si 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 stanno presto andato avanti but I c'è anche c'è anche c'è anche c'è anche devo vendicarla a me arrestato dietro un qua dietro il camion terra uno terra due qua qua da me guarda questo che ferme che ferme che ferme ero provano tutto questo ma sì spero che ferme sono lì a guardare le scale non metto fuori la faccia perché me l'ho sciolto fonte corazzari due tieni piano piano però prenderci le altre scale perché sarà un bordo safe usciamo col gas no 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 la maschera piano 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 stai perdendo terreno stiamo qua dentro vieni qua vieno piano mi sento qua sopra pieno no fra io non lo vedevo questo zero perché mi sono messo lì porco dio piano 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 Sì. Cazzo, sono finiti. Quella è la mossa di Lello. Madonna San Francesco. Madonna San Francesco. Madonna San Francesco. Sono due contro uno. Ma sono negati pezzi di merda. Pugli di puttana. Pugli di puttana. Pugli di puttana. Pugli di puttana. Pugli di pionglie. Pugli di piazza. E' un uomo che sono tre di giù, uomo! Il cazzo in faccia proprio! Quell'uso in faccia è altissimo! Quello era pure in E-10, l'ha sciolto! Noi, come presto, guarda quello che vuole!